. Belen con Francesco Monte, il gesto dopo l'abbandono all'isola dei famosi . Belen Rodriguez dalla parte di Francesco Monte, il gesto dopo l'addio all'isola dell'ex cognato. . Cancelletto Francesco Monte si ritrova a combattere una dura battaglia contro Eva Enger. L'inizio della guerra è avvenuto nel corso del secondo appuntamento serale dell'isola dei famosi 2018, trasmesso la scorsa settimana, in data lunedì 29 gennaio. . . Durante la seconda diretta del reality, la Enger ha fondato delle accuse rilevanti sul ragazzo il quale, stando alle rivelazioni di Eva, video, avrebbe fumato marijuana all'interno della casa dove tutti i concorrenti sono stati radunati per una settimana prima dell'effettivo sbarco in Honduras. . . Francesco, oggi, sta facendo il possibile difendere la sua persona e tutelare i propri diritti, in questa situazione interviene, indirettamente, l'ex cognata, Cancelletto Belen Rodriguez, la quale appare chiaramente sostenere Monte. . Francesco Monte ha abbandonato l'isola, il messaggio sui social. Mi sono trovato al centro di una situazione per me inaspettata e molto dolorosa e anche in questa questione il mio stato d'animo è rimasto intrappolato in me. . . Sono un uomo istruito, educato, appartengo al sud e voglio rimanere tale nonostante io faccia parte di trasmissioni televisive. . Le trasmissioni che hanno colto l'aspetto scandalistico di questa triste vicenda senza nemmeno porsi il minimo dubbio se le accuse sulla mia persona fossero o meno infondate, hanno la mia disapprovazione. . Io rispetto il lavoro altrui, so di essere una persona a cui piacciono le telecamere ma non ho alcuna intenzione di continuare a farmi massacrare da chi ha peli di cinghiale sullo stomaco mentre l'animal ha già persa da vario tempo, ha scritto pubblicamente Francesco sul proprio profilo social ufficiale. . Francesco si difende sui social, il gesto di Belen Rodriguez. . . Il post messaggio di Francesco Monte è stato approvato da diversi utenti i quali, nei vari commenti, si sono dimostrati totalmente a favore del ragazzo. Tra i like rilasciati ecco che ritroviamo quello dell'ex cognata, Belen Rodriguez. . Belen, attraverso il seguente gesto, dimostra di essere dalla parte di Monte, video, e di sostenerlo in questa questione che lo ha posto dinanzi a critiche da lui definite infondate. . . . . . . . . Pate my body gone Pate my body gone